Ciao a tutti e benvenuti a Argo Tractors stand in Hannover Agritecnica. Mi chiamo Antonio Salvaterra e sono il marketing manager del gruppo Argo Tractors, che significa Tractors in brand McCormick, Landini e Valpadano. Siamo qui oggi perché Argo Tractors, che è un fabbio italiano produttivo di questo brand, è presentato un prodotto nuovamente. Prima di tutto i Tractors McCormick X8, che sono Tractors che per la prima volta portano a 300 oz. In effetti, parliamo di Tractors con trasmissione, variabile continuamente, da ZF, che ha tre potere, da 264 a 310 oz. Ma Argo Tractors non solo trattori open-field, come l'X7, che è disponibile qui nella transmissione variabile, VT Drive e la Pro Drive Transmission, PowerShift, ma anche con alcuni trattori speciali. Questo è il caso dei nostri X6 Tractors, che sono appellati da 1.10 a 1.40 HP, con 4-cylinder engines, disponibili in PowerShift e in VT Drive Transmission. Inoltre, abbiamo cercato di incontrare i nostri clienti con gli X7 Tractors, nella versione Pro Drive, nella versione VT Drive, che è variabile e continuo, come in un nuovo modello di 6-cylinder 160 HP, in questo caso, in un'efficiente versione, che significa, con specifiche che incontrano una versione entry-level. Argo Tractors è anche presentato qui, in Agritecnico, con Landini, un brand che è benvenuto in molte, molte regioni mediterranei del mondo, non solo in Europa, ma parliamo dell'Africa, dell'Asia e dell'Asia, dell'Asia e dell'Asia. Quindi, con Landini, Argo Tractors ha presentato qui alcuni trattori speciali, che sono, in realtà, il business principale per il Landini. Sto parlando dei nuovi Rorchard Rex, che ha presentato un nuovo quadro, e anche Valpadana, che è il nostro brand, intenzione per il trattore specialista, con trattori equilibrati, che possono ottenere queste aree che non sono ottenere da altri trattori. In questo caso, sono piaciuto di dire che Argo Tractors, con McCormick, Landini e Valpadana, ha potuto mostrare, qui, in Agritecnica, la sua attività più alta. Considerando che Argo Tractors, oggi, è una delle maggiori compagnie di trattori, l'improvemento che ha portato alla nostra linea di prodotti ha stato possibile, grazie anche alla cooperazione che ha dato da maggiori servizi. Uno di questi servizi, che siamo orgogliosi di essere parte, è GKN. E anche grazie a loro, che in ultimi due anni, abbiamo potuto rinnovare la linea di prodotti in open field, e che stiamo migliorando e sviluppando tutte le attività, per i nuovi trattori, che saranno rilassati nella specializzazione. Grazie per aver con noi, grazie per visitare noi in Agritecnica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!